salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di sim dati queste sim che non hanno un numero di telefono che sono solo sim dati e la sim dati di cui parliamo oggi è della e yacht club è disponibile su amazon la sim la si acquista senza nessun problema costa intorno ai 5 6 euro e ci vengono dati 500 mega di utilizzo per poterla provare quando andiamo ad acquistare poi ovviamente se vogliamo continuare ad utilizzarla andremo a ricaricare dei dati ma cos'è il vantaggio di queste sim dati che non hanno nessun canone che non hanno nessuna intestazione non hanno un numero di telefono non serve nessun abbonamento non serve dare nessun codice fiscale non serve niente come la si acquista la si inserisce in un dispositivo che supporta 4g lte perché queste sim sono 4g lte e in più sono utilizzabili in 30 paesi europei quindi all'interno di questi 30 paesi europei lei funzionerà tranquillamente senza nessun costo aggiuntivo a livello di roaming quindi è tutto quello che consumiamo noi come dati switcherà da sola fra le varie reti quindi è davvero super interessante anche qua in italia per esempio io un po che la sto utilizzando appunto per provarla per poi portarvi la mia opinione qua sul canale switcherà fra le reti vodafone 3 e devo dire che si comportate bellissimo poi tra poco la proveremo faremo anche un test di prova di velocità per vedere come si comporta però questo lo vedremo fra un attimo queste sim dati ovviamente hanno dei costi a livello di ricarica non paragonabili alle sim classiche ma perché perché hanno funzioni diverse servono per scaricare file grossi da internet o consumare tanti dati da internet servono per navigare in internet dove abbiamo una necessità di avere appunto internet dove non l'abbiamo normalmente o soprattutto per dispositivi lotte questi dispositivi che hanno bisogno di avere dei dati internet ma che vengono consumati in maniera minima che però hanno un bisogno continuo di averli per funzionare esempio le videocamere di sorveglianza quando le dobbiamo mettere in posizioni dove non abbiamo la nostra rete wifi quindi supponiamo di metterle non so in una barca piuttosto che in campagna piuttosto che in un'altra località in cui non abbiamo la rete wifi la maggior parte delle videocamere di sorveglianza non funziona però ci sono videocamere di sorveglianza che sono predisposte con uno slot per sim dati a quel punto basterà inserire questa sim all'interno della videocamera di sorveglianza e lei trasmetterà ovviamente il consumo dei dati è minimo perché lo andremo a consumare per la maggior parte solo quando dallo smartphone andremo a vedere appunto cosa sta inquadrando la videocamera di sorveglianza o quando la videocamera di sorveglianza ci invierà le notifiche di movimento o qualsiasi altra cosa lei debba inviarci però è sempre un consumo minimo quindi questi dati che noi abbiamo caricato dureranno tantissimo stessa cosa se mettiamo una sim di questo tipo nella dashcam cioè le videocamere che vengono montate sulle auto per la sicurezza quando l'auto è ferma anche lì ovviamente il consumo dati è minimo e soprattutto è un consumo dati continuo quindi non è che ogni mese dobbiamo ricaricare qua i dati rimangono per un periodo lungo se noi facciamo la ricarica quella che dura un anno ma anche di questo parleremo fra poco un altro esempio è poi l'utilizzo in un router portatile come questo quindi io ho inserito questa sim all'interno di questo piccolo router portatile della tip link e quindi io a questo dispositivo posso collegare qualsiasi mio dispositivo che sia uno smartphone un tablet un pc quindi qualsiasi cosa io lo posso collegare a lui perché questo è un router lui si connette alla rete 4g lte del servizio e yacht club e a quel punto posso navigare come vi ho detto ovviamente il costo dei dati è abbastanza importante quindi non va utilizzato per scaricare quintalate di cose ma per navigare dove ne ho bisogno perché magari la mia rete telefonica normale non va o sono con un dispositivo che non ha una rete wifi non so magari ho lì un mio mac portatile o un tablet e non ho una connessione posso sfruttare comunque questo servizio e poi sicuramente utilizzabile anche nei tracker gps quindi nei tracciatori gps che quelli che vengono magari applicati sui collari dei cani per esempio o anche quelli che vengono messi nelle auto per vedere se la nostra auto viene rubata che fine sta facendo anche lì abbiamo bisogno di una scheda sim dati per far funzionare il gps di quel dispositivo allora adesso andiamo a vedere come funziona il discorso della ricarica dati allora la sim vi arriva in questo sacchettino quindi veramente minimale tutto perché è talmente semplice non avendo contratti non avendo niente non c'è assolutamente burocrazia questa ovviamente è la parte interessante di queste sim qui arriva questa scheda dove ovviamente qua la sim adesso non c'è perché come vi ho detto l'ho messa qua in questo router portatile e qua abbiamo il codice ICCID che è quello che serve per la ricarica perché quando andremo nella pagina del sito web di A2Club della ricarica dovremo inserire solo quel codice e scegliere il tipo di piano dati che vogliamo ricaricare allora qua abbiamo varie possibilità in base all'utilizzo che ne dobbiamo fare abbiamo possibilità di una ricarica di 3 giga da 10 euro per la durata di 30 giorni fino ad avere una ricarica di 36 giga che è quella che ho fatto io che ho qui all'interno di questo router che è di 36 giga costa 89 euro e la durata dei 36 giga è di un anno quindi ho un anno di tempo per consumare questi 36 giga che non sono tanti se li analizziamo per l'utilizzo quotidiano che facciamo normalmente con lo smartphone infatti il senso non è questo però dopo 30 giorni non si resettano qua posso averne anche 120 ma dopo 30 giorni che ne ho usato uno, che ne ho usati 10, che li ho usati tutti è indifferente, si resettano e si riparte ripagando questo diventa impossibile nell'utilizzo di un dispositivo che ha bisogno sempre costantemente di dati mentre qua appunto abbiamo questi per esempio 36 giga ma poi ci sono anche tariffe intermedie le vedete qua che variano appunto in base alle necessità di ognuno quindi questi 36 giga io li avrò a disposizione per un anno non avrò abbonamenti, non avrò niente e alla fine di 36 giga se io ovviamente li finirò prima dell'anno cosa dovrò fare? o non fare niente se non ne avrò più bisogno o andare a ricaricare quindi basterà inserire il numero della nostra sim e scegliere ancora il piano e si riparte quindi capite che è davvero semplice l'utilizzo anche perché basta inserire la sim nel dispositivo e va all'interno di questo router io non ho dovuto fare niente, configurare niente, assolutamente niente ho inserito la sim e lui è stato subito funzionante volevo farvi vedere anche le prestazioni di questa sim dal punto di vista della velocità quindi la sim è inserita in questo router entro nelle impostazioni del wifi del mio telefono vado a selezionare tip link perfetto siamo connessi al tip link adesso andiamo a fare il test di velocità quindi speed test diamo il vai e guardiamo le prestazioni perché comunque è importante anche quello vedere quanto è in grado di darci questa sim della E-Yacht Club vedete che le prestazioni sono di tutto rispetto direi molto buone quindi a livello di velocità non ci si può lamentare e questo l'ho notato anche spostandomi perché comunque l'ho provata qua l'ho provata in Puglia e lei si è sempre comportata benissimo da questo punto di vista quindi ragazzi questo era solo un video per spiegarvi a cosa servono queste sim dati che trovate su Amazon quindi vi lascio qua sotto il link in descrizione e perché esistono queste sim dati che ovviamente non sono da confondere con le sim che utilizziamo normalmente nel telefono non perché siano diverse dal punto di vista costruttivo o strutturale ma perché non hanno un numero di telefono non hanno abbonamenti non hanno costi fissi e quindi sono totalmente indipendenti da chi le utilizza e appunto il fatto di non essere legato a nessuna persona fisica è sicuramente una cosa importante e ci danno la possibilità di utilizzare dispositivi che hanno bisogno di dati dove non abbiamo una rete wifi dandoci appunto dati sempre disponibili e continui anche per un anno senza nessun problema quindi ragazzi se questo è il mio video in cui vi ho portato la mia recensione e le mie opinioni riguardante le sim della Yacht Club vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante novità anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno spoiler delle location di dove vado a far volare tutti i miei droni sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità ciao e al prossimo video ciao